Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR Oggi sono di nuovo col microfono vecchio e tutto resta semplicemente perché non mi andava di prendere il pluvier, di montarlo, cercare l'adattatore eccetera eccetera Quindi mi vedete così Però dato che ho ricevuto commenti di diverso tipo, un po' contrastanti sull'inquadratura preferita per i video spesa Cioè alcuni mi hanno detto che preferiscono, mi avete detto che preferite, scusate, l'inquadratura direttamente sui prodotti dall'alto Altri video in cui comunque mi si vede, ho deciso di alternarle Oggi sono presa bene e quindi vi mostro la mia faccia Allora, iniziamo subito Oggi sono andata alla Lidl e vi faccio vedere prima le cose non da frigo Poi quelle da frigo, dato che quelle da frigo le ho giusto appunto posate Quindi poi le vado a prendere giusto il tempo di farvele vedere per non tenerle troppo tempo fuori dal frigo Allora, la prima cosa che vi mostro sono questi qui Questi sono novellini, biscotti per la prima colazione senza olio di palma, con latte fresco italiano e miele Con sei confezioni singole, salva, fragranza Adoro il fatto che abbiano delle confezioni più piccole Anche se in tutto nel stadio ho presi perché costavano tipo 70 centesimi, 69 centesimi Quindi ho detto, vabbè, un pacco di biscotti in più male non fa Cioè, un po' alla linea sì, però questi sono solo dettagli Comunque, dato che costavano poco e alla fine i biscotti li si consumano sempre Ho deciso di prenderli, erano in offerta In generale ho preso quasi tutto in offerta Tranne delle cose in particolare che volevo prendere Tipo le uova Che non erano in offerta, però costavano 99 centesimi Quindi mi servivano 4 uova medie da galline allevate all'aperto Io in genere ho le idee Ho delle mie idee riguardo le uova Compro sempre e solo Ho uova di galline allevate all'aperto Ho uova di galline allevate a terra Però quelle allevate a terra cerco di evitarle in genere Perché, niente, semplicemente perché ho visto come sono allevate a terra E quindi mi sento male E perciò ho deciso di prendere i cucciai Se le trovo prendo quelle allevate all'aperto Ovviamente ognuno ha le proprie idee riguardo al cibo in generale Marche, sottomarche Tipo di alimentazione Per esempio vegana, vegetariana Io purtroppo non riesco a passare a un tipo di alimentazione vegana o vegetariana Mangio carne e derivati del latte Rispetto chi mangia vegano o vegetariano Però non credo faccia per me Poi ho preso Questi Che sono un chilo di kiwi Coltivati in Italia Provenienza Emilia Romagna Non sapevo che si producessero kiwi E i kiwi Per me i kiwi sono frutti da avere sempre a casa E quindi li ho presi Anche perché anche questi era in offerta Li ho pagati in meno di 2 euro Un chilo di kiwi Che in genere costano tantissimo Quindi sono molto soddisfatta Invece ho pagato un po' di più queste Perché proprio le volevo Sono Delle fragole Ecco così Così in fotocamera sembrano proprio rosso O un rosso finto Però Vabbè Sono semplicemente fragole 500 grammi di fragole Perché È da me sì che le volevo Adesso Cioè Sta arrivando un po' la bella stagione Quindi ho detto Le devo prendere E le ho prese In questo momento Ho troppa frutta a casa E ho paura che si fa brutta Perché ho arance Alcuni kiwi vecchi I kiwi nuovi Le fragole E i limoni Che non sono propriamente frutta Però Cioè Scalono Si fanno brutti anche quelli Poi ho preso Questi qui I kiwi pomodoro Di pachino Quindi Semplicemente Pomodorini di pachino Tra l'altro Anche questi Erano in offerta Li ho pagati 1,30 euro È un tipo di pomodoro Che so che mi piace E quindi sono Molto soddisfatta Di questo acquisto Devo dire Azienda Associata al consorzio Tutela I kiwi pomodoro Di pachino Tanto alla fine I pomodorini Si comprano sempre È una di quelle cose Che sta sempre Nel mio frigo Quindi Dovevo prescindere Prendere 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 un tipo E ho scelto Questo Ho preso 200 grammi Di cuori di iceberg Questi Le ho pagati 99 centesimi Se non erro Penso proprio di sì Non amo più di tanto L'insalata Però Ogni tanto Fa anche bene Quindi Cerco di prenderla Poi Ho preso Questi qui Che sono Semplicemente Dei dadi Brodo vegetale Meno 30% Di sale Senza olio di palma Anche questi Stanno Tengo sempre Dadi in abbondanza In frigo Perché Il dado si usa Per 3 miliardi Di cose Ci faccio Sia gnocchi Che tortellini In brodo Sia Il riso Che Cioè Il riso Insomma Per i risotti Che Ha Cos'altro Le lenticchie Varie preparazioni Quindi A prescindere Anche i dadi Sono una cosa Che ho Sempre A casa Passando invece Alle cose Da frigo Ho preso Prima di tutto Speck Light È in offerta Anche questo L'ho pagato Tipo 1 ora E 30 Ma come ho detto All'inizio In genere Quasi tutte le cose Che prendo Sono in offerta Perché Sto utilizzando Questo nuovo Metodo Di spesa Che nuovo Non è Però per me Per me Si Ed è quello Con cui mi trovo Meglio Quindi La maggior parte Delle cose Come ho premesso Sono prese Appositamente In offerta Compresa Questa Che è Una singola Mozzarella Perché Io Prendo le Mozzarelle Light Quasi mai Quelle Non normali Intere Insomma Però Ogni tanto Ne prendo Qualcuna Non light Perché quelle light Si sciolgono Male Quindi Questa In realtà L'ho presa Perché volevo Fare O i gnocchi O il risotto La sorrentina E quindi Ho bisogno Di una cosa Che si sciolga Bene Bene E l'ho presa L'ho preso Sempre perché Stava In offerta Questo qui Avevo Già Del grano A casa Però Questo scade L'uno Giugno Quindi ho detto Vabbè Anche che lo prendo Adesso Non in più Non fa niente E l'ho pagato Tipo un euro Che per il grano Non è Praticamente niente Però È l'offerta Grana Padano Top Riserva Grattugiato Questo qui Va preso Come ultima cosa Credo Una cosa Di cui sono Felicissima Perché non la trovavo Da un secolo E spero sia buona E spero sia buona Come me la ricordo E cioè Questi qua Questi sono Tramezzini Di carne Farciti Con Pasciuto Cotto E formaggio Ne ho presi Due confezioni Perché erano in offerta E perché Non si trovano mai O meglio Io non le ho mai Trovate Da quando Mi sono trasferita Almeno È dall'estate Scorsa Che non le mangio E queste Mi sono sempre Piaciute Ma mamma Me le Preparava Sempre Quindi una volta Tanto che le ho trovate Per tipo in offerta Mi ho voluto E prendere Due Due confezioni Appunto Tramezzino Di suino Con prosciutto E formaggio Carne 100% Italiana Sono molto Felice Di questo acquisto Devo ammetterlo Ma in realtà Un po' di tutti Sono abbastanza soddisfatta E sono contentissima Di aver preso Le fragole Perché Da mesi Che aspetto Di prendere le fragole Comunque Io direi Che per questo video È tutto Spero che vi sia piaciuto Che vi abbia rilassato E vi dico Che ci vediamo Direttamente Nel prossimo video Ciao A tutti Ciao 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 Grazie a tutti.